Alla vigilia del test d'ingresso di medicina 2018, noi di Scuola Punto Netta abbiamo voluto mettere alla prova gli aspiranti medici. Saranno preparati? Scopriamolo! Sei pronto per questo test di medicina? No! Vieni, viva la sincerità! Sì! Boh! Preoccupato, però... abbiamo buone aspettative. Molto poco! Perché poco? Avete studiato... vi siete dedicate molto al mare. Grazie. Non mi esprimo. Posso fare una domandina di chimica? Vediamo quanto si è preparato il ragazzo. I non metalli reagiscono con l'ossigeno per dare anidridi, eteri, ossidi basici, alcani o idracidi. Indoviniamo, io questa l'avrei lasciata bianca. Anidridi? Bravissimo! Allora, io sinceramente l'avrei data in bianco, eh! Benissimo! Bene, cominciamo bene! Ragazzi, non ho ancora letto la domanda e mi hanno dato la risposta giusta. Quindi la risposta è... Anidridi. Posso fare una domanda di logica? Vediamo! Quali? Tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione verbale. Esteriore sta estremo come x sta y. Credo sia la A. Bravissimo! Ehi! Sbagliata. Credo la A. X superiore. Sì, ragazzi, davvero è preparatissimo il logico. Logica sì, almeno una, datevela, passatevela. Biologia. Nel cuore, la circolazione sistemica ha origine? Dal ventricolo sinistro? Dal ventricolo destro? Dall'atrio sinistro? Dall'atrio destro? O dalla vena porta? Mi sembra dal ventricolo sinistro. Ragazzi, non un aspirante medico, ma un medico! Brava! Speriamo un po'! Sta tremando, ragazzi, voi non lo sentite, ma sta tremando. Diciamo... La A. Ragazzi, bravissimo, dammi un abbraccio! Allora, se non mi sbaglio, ventricolo sinistro? Bravissimo! Già medico, ragazzi! Sono pronto, vai! Gravissimo! Ciao!